Ciao a tutti, oggi voglio consigliare il libro di Malala di Viviana Mazza a tutti i ragazzi dell'anità perché tratta temi molto importanti e la protagonista va mirata per il grande coraggio e per il senso di libertà che la porta a combattere per raggiungere i soggettivi. Per citare una frase di Malala, un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono tagliare il mondo. Malala Iosozai sostiene che solo attraverso l'istruzione il mondo può trovare la pace. Tante sono le sofferenze che Malala incontra nel suo cammino e per questo vale la pena leggere questo libro. Aiutateci da richiedere la biblioteca della scuola. Un saluto e grazie. Ciao